grazie pederica allora iniziamo la presentazione allora prima di iniziare la presentazione funziona prima di iniziare la presentazione mi preve subito sottolineare come vedete in questa slide che l'attività di ricerca che abbiamo svolto che ha prodotto quest'articolo frutto di una collaborazione multidisciplinare tra diversi colleghi che afferiscono oltre al mio istituto quindi cac anche ad altri istituti sempre del cnr e università in particolare questo studio è uno studio che nasce su dei fondi della protezione civile nell'ambito dell'attività che l'icag e svolge per conto del dipartimento di protezione civile in particolare e per gli studi di micro zonazione sismica per la programmazione degli interventi in materia di riduzione del istituto sismico e in particolare questa attività era inserita in una parte del progetto che prevedeva l'aggiornamento all'integrazione degli indirizzi e criteri della microzonazione sismica per le aree vulcaniche e l'obiettivo di questo studio è stato un pubblico obiettivo sia quello di ricostruire e praticamente di effettuare una ricostruzione strade grafica fisica del mar di straccia k e quindi tutta la sequenza dei ritutivi vulcanici che sono stati caratterizzati in termini di proprietà fisiche meccaniche e geofisiche dall'altra attraverso opportune analisi numeriche verificare la risposta sismico locale per diversi scenari sismici perché abbiamo scelto il mar di straccia k perché praticamente è questo tipo di struttura che una struttura particolare c'è stata all'interno del progetto che sfoggevano per attivati protezioni civili ci risulta ci premeva questo tipo di attività e quindi caratterizzare dal punto di vista della risposta sismica per poi esportare questo tipo di di prodotto per aree simili in altri contesti e sempre di vulcanismo esposivo e dall'altra parte è stato scelto straccia k perché presentava un'assenza di copertura antropica che quindi ci ha permesso di dettagliare al meglio la natura e le proprietà litotecni dei sedimenti che riempiono la parte superiore della struttura mar e dall'altra e la struttura stessa presentava un ottimo stato di conservazione del suo cratere prima di iniziare in dettaglio la presentazione volevo fare un paio di richiami uno sulla risposta sismica locale e uno sull'origine di mare volcarci per quanto riguarda la risposta sismica locale e si intende quelle modifiche che il moto sismico subisce in entrata in sito in termini di ampiezza contenuto e frequenza e durata e per condizioni locali quali il geologico morfologiche e geotecnico locali e in questo caso gli effetti di sito che si possono vedere che vedete schematizzati nella parte sinistra dello schermo e possono essere condotti a amplificazioni strati grafiche per esempio e quando siamo in presenza di depositi esoffici poggianti su materiali più rigidi e amplificazioni dopo grafiche quando per esempio siamo in corrispondenza di creste diversante o ancora effetti di valle quando si possono avere dei contatti tra diversi depositi diversi caratteristiche geomeccaniche e rispetto anche alla morfologia sepolta come potrebbe essere il caso di palio valli accanto a questi fenomeni di sito e troviamo quelli che vedete raffigurati in verde degli effetti locali di stabilità che inducono delle deformazioni permanenti che possiamo trovare crolli in roccia frane e fenomeni di liquefazione o densificazione o rotture superficiali come per sempre la presenza di fagli che sto con il superficie ok l'origine di un bar e in questo slide appunto in maniera molto rapida volevo mettere per chi ovviamente non è al dentro del di questo tipo di strutture diciamo che che non conosce bene queste strutture sono strutture vulcani che si formano durante eruzioni esplosive fratomagmatiche originate a contatto tra magma e acqua di falda il modello concettuale che vedete qua quello di crescita incrementale è quello che per molti anni è stato considerato alla base della loro origine in particolare prevede che le esplosioni inizino a bassi a bassa profondità quindi nei livelli più superficiali migrando progressivamente verso il basso ed espellendo i classi più profondi e progressivamente nella parte più alta degli anelli di tefra che invece si depongono ai margini del mar e successivamente negli ultimi anni sono stati ovviamente ben studiati sono stati sviluppati nuovi concetti nuovi modelli concettuali tra cui per esempio questo che vedete e prevede prevede che le esplosioni non avvengono migrando verso il basso ma bensì che possono verificarsi in varie posizioni sia verticali che laterali all'interno del teatrema che la classica forma che si crea nella presenza quando si forma un mar e questo tipo di concetto praticamente aiutava a spiegare l'origine di liquidi di litici molto profondi fino alla superficie e da alcuni test anche che sono stati fatti in campagna di studi studi passati si è visto che se esplosioni oltre 200 250 metri di profondità non riuscivano a sfogare fino alla superficie ma invece aiutavano a mescolare i vari i vari materiali anche più profondi portandoli in superficie e con successivi ovviamente esplosioni più superficiali e sfogare fino in superficie questo tipo di strutture che sono molto molto frequenti in tutto il mondo presentano delle caratteristiche particolari che potete raffigurare in uno schema a destra in particolare presentano appunto dei rapporti larghezza profondità molto elevati e hanno sono delle strutture negative e presentano un cratere riempito di depositi e molto soffici post eruttivi spesso e spesso è anche occupato da da un lago e si forma questo di ma che questo conor rovesciato riempito da materiali caotici allora e lo studio di questi mar dal punto di vista sismico è ancora diciamo poco studiato se pare se paragonato con ovviamente gli ambienti più strettamente sedimentari ma comunque risolvi rileva che strama importante il loro studio in quanto in quanto molto spesso questi mar sono 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 presenti in aree altamente urbanizzati qui vediamo per esempio nella parte del centrale della venite la nostra penisola nell'area intorno a roma e dove sono presenti diversi ma renziano il distretto sabatino per ridosso dei colli albani o ancora spostandoci più a sud nel sempre lungo la costa tirrenica dove è diffuso un altro un altro vulcanismo nella zona del napoletano dove anche qui è un'altra urbanizzazione ovviamente e con un'altra presenza di strutture marra allora passiamo adesso nel dettaglio appunto del lavoro e in questo slide vi assumo la raccolta di noi dati che sono stati effettuati ad hoc per lo studio e come vedete l'approccio è un approccio integrato quindi ci sono dati geologici geofisici e geotecnici in particolare è stato effettuato un rilavamento geologico di dettaglio è stato effettuato un sondaggio a carotaggio continuo spinto fino alla profondità di 45 metri 29 misure di rumore a stazione singola sono state acquisite e tre arrei sismici passie i due di tre arrei sismici attivi modella masma due demografie di resistività elettrica e inoltre sono stati prelevati due campioni indisturbati su cui sono state eseguite delle prove di taglio semplice a doppio provino e realizzata una propria penetrometrica statica e con il cono sismico ls cpt allora mar di straccia k è situato un bel inquadramento è situato nell'italia centrale all'interno di stretto vulcanico sabatini dei sabatini e diciamo la cui attività e si è conclusa circa 90 mila anni fa e presenta una struttura molto ben conservata come ho detto prima che vedete raffigurato in basso a destra presenta un cratere misurato in 1,5 chilometri nella parte più alta dell'anello di terra il fondo è leggermente più basso della del paesaggio circostante e ospita circa 50 metri di depositi lacustri in quanto il lago in quanto il mare dopo la sua formazione è stato occupato da un lago lago che è stato prosciugato intorno al diciannovesimo secolo e attraverso la costruzione del nuovo acquedotto al setino che vedete in alto uno schema raffigurato che portava insieme alla decente lago di martignano le acque al lago di bracciano che venivano sfruttate in epoca storia dalla città di roma e dagli ultimi dati radiometrici effettuati su da sottili età nel 2010 diciamo l'attività e ferroatomagmatica si attessa circa 97 mila anni fa l'ultimamente ruttivo ok allora il rileamento geologico è stato effettuato ed ha permesso appunto come vedete qua in questo slide di ricostruire questa mappa geologica di dettaglio con corredata delle due sezioni in basso a destra una passante circa est ovest e una nord ovest sud est in questo slide vediamo rappresentati la successione piroclastica che è di cui è formato l'anello intorno al cratere e successione piroclastica che presenta presenta una inclinazione tra i 10 e 20 gradi ed è emergente verso la parte esterna del cratere ed è formata da dei rufi stratificati anche con laminazione anche con laminazione incrociata e nella parte alta si possono ben vedere dei blocchi di lava spessi anche grandi anche fino al metro con molto spesso associata a delle depressioni da impatto spostandoci verso il centro del mar e il secondo ambiente diciamo deposizionale che qui raffigurato con una lavorazione gialla che è formato da depositi depositi detritici epiclastici che hanno che sono di origine colluviale alluvionale e di testa e sono rappresentati da un'alternanza di materiale vulcanico rielaborato sia a grana fine che grossolana è anche messo a litici di natura sedimentaria e generalmente questi corpi formano dei corpi questi prodotti formano dei corpi lentiformi che con un'inclinazione a basso d'angolo in questo caso minore di 10 gradi emergenti verso la parte interna del cratere spostandoci infine verso la parte interna del cratere e vedete raffigurati i depositi depositi l'acustri in colorazione azzurna in particolare è stato realizzato come dicevamo prima un sondaggio ad hoc lss1 che spinto fino alla profondità di 45 metri che ha permesso di vincolare anche la stratigrafia e questi depositi sono appunto dei fanghi l'acustri che per i primi primi 15 metri sono formati principalmente dei depositi a bassa consistenza consistenza di rime argillosi scuri e grigi passando in profondità a dei depositi depositi di sabbie grigie limose molto materiale vulcano plastico in alto a destra vedete rappresentate due due cassette che sono le due cassette di sondaggio dove sono state prelevati i due campioni c3 c5 uno nelle argille superficiali una parte sabbiosa di 24 metri che sono successivamente poi lavorati in laboratorio tecnico effettuato diciamo tutto il nostro rilevamento geologico siamo passati all'acquisizione di dati geofisici in questo slide appunto vi mostro le 29 registrazioni di rumore ambientale a stazione singola che sono state acquisite principalmente lungo le due direzioni che vedete raffigurate che rappresentano le due direzioni sia delle ERT che sono le tomografie elettriche e resistività che passano all'incirca presso le due sezioni geologiche che abbiamo visto prima allora in questo slide vediamo il risultato il primo risultato delle indagini hv sr quindi le misure di rumore ambientale a stazione singola a sinistra possiamo vedere come colorazione celeste del riquadro come le misure e la restituzione del rapporto spettrale h su v e non fornisce ci dà indicazione su sull'assenza o meno di picchi di amplificazione cosa che invece inizia quando ci spostiamo verso la parte piclattica quindi andando verso il centro del del cratele che vediamo a destra nel riquadro giallo dove le curve hv sr mostrano dei picchi cominciano a mostrare il che ben evidente anche di amplizza molto molto elevata lo standice infine nella parte più centrale e qua e diciamo le misure a stazione singola di noise hanno praticamente messo in luce dei picchi ad ampiezza molto elevata e anche anche dell'ordine degli 89 punti possiamo una prima indicazione che si può vedere da questo riguardo che andando dalla dal bordo esterno quindi dalla misura t 12 la misura l 3 raffigurata nella pappetta quindi spostandoci verso la parte centrale più profonda del cradere e le misure praticamente subiscono i rapporti spettrali subiscono il picco raffigurato nei rapporti grafici rappresentati e subisce una diminuzione della frequenza di risonanza che passa da 2,34 a 1,46 indicando ovviamente un approfondimento della dell'interfaccia risonante e l'ampiezza e passa da un'ampiezza circa 3 diciamo verso il contatto con i depositi epiglassici gialli a ovest a fino a circa 7 nella parte della l3 che circa verso la parte centrale del mar accanto a queste misure a stazione situa sono state come dicevamo eseguite due tomografie elettriche la prima qui raffigurata circa nord ovest sud est e circa lunga 1.400 metri e vedete raffigurata e con sopra in confronto le tre misure selezionate che stanno ad indicare i tre ambienti principali di questo mare cioè la parte a sinistra il t15 sull'anello di tefra quindi sono materiali più consistenti che non prevede diciamo grandi picchi di risonanza e il tomografie elettriche allo stesso tempo mette degli altri resistivi che stanno a indicare il materiale più più competente spostandoci come dicevamo prima verso la parte centrale del mare quindi passando per esempio l5 che sta sui materiali epiglassici e picco inizia ad avere una sua consistenza fino ad arrivare a t17 nella parte centrale dove il picco è molto è molto è molto elevato in ampiezza e in questa parte appunto la demografia elettrica ci mostra un basso resistivo che si segue su tutto diciamo il cratere la parte centrale del canele che sta a indicare la parte la vostra è più superficiale e l'altra traccia della tomografia elettrica è questa che dimostra l'hert 2 e circa est oest e anche qui abbiamo messo a confronto e anche questa passa da sborda lateralmente oltre gli anelli di terra per avere una maggiore risoluzione ai volti della tomografia elettrica e anche qui in alto vediamo la corrispondenza con le misure di rumore a stazione singola come precedentemente visto mentre nella parte passa possiamo vedere i tre i tre profili di velocità delle onde di taglio vs che sono stati ricavati dai tre arrei sismici sia attivi che passivi elaborati in maniera congiunta con l'elettricità delle curve di hpsr e anche in questo caso sono stati sovrapposti sopra la tomografia elettrica per avere una corrispondenza e del dato e il buon accordo si può vedere in tutti e tre gli ambienti diciamo settore diciamo non ambienti nella parte occidentale quindi verso ovest vediamo appunto che profilo di inversione quindi profilo vs presenta delle velocità e subito abbastanza elevate che corrisponde al fatto di assenza di picco nella misura di rumore e all'altro resistivo della topologia elettrica viceversa spostandoci nella parte interna si vede appunto come le velocità dei derivati dal profilo dal profilo rai uno e sono sono molto basse per molti metri e allo stesso tempo come precedente visto nella rt 1 anche questa ci fa vedere un passo resistivo che indica appunto i materiali a bassissima consistenza in questo slide in ultimo vi metto un attimo in evidenza la risultati della prova scpt quindi la prova penetrometrica statica con cono sismico e confrontati appunto con con la prova con l'inversione congiunta e che abbiamo visto prima dal rei e si vede il buon accordo soprattutto nella prima parte del nei primi dieci metri e buon accordo tra appunto il profilo medio del deve essere ricavato dall'inversione congiunta da i dati tvs puntuali che restituisce la prova col cono sismico e il confronto di questo in questo confronto ci aiuta a definire l'incertezza sui valori assegnati poi alle singole litologie per il nostro modello di sottosuono in questa slide e passiamo invece ai campioni che abbiamo rilevato nel sondaggio stratigrafico e che come dicevo prima sono stati elaborati sono stati lavorati in laboratorio in particolare il loro comportamento è stato stato il loro comportamento ciclico attraverso questo dispositivo di taglio semplice a doppio campione qui raffigurato e presso il lavoro di ingegneria geotecnica e strutturale della sapienza di roma con il professor lanzo e questo tipo di apparecchiatura e riproduce praticamente il laboratorio le condizioni di un elemento di terreno prima e durante l'evento sismico ed è in grado di indagare praticamente in un unico test e le sue proprietà cicliche e con deformazioni e con deformazioni da molto piccole e molto grandi e le parole come dicevo sono state eseguite su due campioni campioni il primo a più bassa profondità c3 tra 10,5 11 metri e rappresentato appunto dalle argille organiche lacustri il secondo sulle sabbie limose lacustri a profondità di 24 24 5 questi due grafici e praticamente restituiscono i parametri dinamici dinamici standard e ovvero il modulo di taglio secante g e lo smorzamento di che sono verranno poi utilizzati nelle successive analisi numeriche le cessioni numeriche e particolare per quanto riguarda il campione c3 e si può vedere come effettuato le argille organiche come questo abbia mostrato una maggior linearità e un minore sborsamento rispetto per esempio a delle argille organiche di simile plasticità quindi con indice di plasticità intorno al 30 a 39 e presenti in letteratura e di da rendere adattando in modo soddisfacente e invece le curve relative suori in organici con plasticità più elevata anche di certo ok a questo punto avendo a disposizione è stato ricostruito definitivamente il nostro modello di sottosuono che qui vedete rappresenti che qui vedete rappresentato nella parte alta e vedete una sovrapposizione e della misura earth quindi la tomografia elettrica 2 quella realizzata circa s oeste il mar con sovrapposto la nostra sezione strati grafica e vincolata con i due sondaggi l'assessi 1 quello fatto ad hoc nella campagna di acquisizione ls2 che è un sondaggio realizzato nel 2007 da giardini per altri scopi e nella sezione b quindi nella parte centrale della figura e vediamo raffigurato il modello geologico modello geologico rappresentato in termini di ovviamente della parte dell'anello di tefra dei termini di substrato perluttivo e nella parte di posta eruttiva dei sedimenti di riempimento e della parte di substrato frequentario sottostante e questo questa questa sezione sono state in particolare lito facesse rappresentate sono state interpretate i termini diritto tipi che vedete in basso nello schema semplificato in basso con a destra la tabella con le caratteristiche meccaniche raffigurate a questo punto siamo nella seconda parte della della presentazione che prevede appunto la parte delle analisi numeriche di risposta al sito uno degli elementi necessari per effettuare analisi di risposta di locale appunto è l'input sismico e nel caso specifico essendo la vissuto essendo da una parte a circa 70 chilometri dall'appenino centrale da una parte in ambiente vulcanico si è opportuno prendere in considerazione due scenari uno vulcanico e uno tettonico e in particolare a sinistra e vedete lo scegli input per lo scenario vulcanico che sono state utilizzate le registrazioni nord sud est ovest di una di una registrazione e la stazione accelerometrica di bronte ricavata dal database itaga mentre a destra per lo scenario tettonico sono stati invece riportati 5 20 tonici e il cui spettro di riferimento è stato costruito con l'equazione gmp e di ambrasis e tolla 2005 con dei riferivi con valori di riferimento pari di magnitutto vari a 6 e mezzo in distanza dall'epicentro di 70 chilometri che è quella che poi ovviamente è presente il mare rispetto alle strutture appenniniche una prima analisi è stata effettuata e qui mostrata sulla vedere l'influenza delle eterogenità laterale e in particolare è stato considerato oltre il modello diciamo precedentemente visto degli due tipi un modello semplificato dove praticamente i due tipi 3b e 4b che vedete raffigurata bellina tabellina sono stati accorpati e a cui è stato assegnato un valore tvs medio di circa 850 metri secondo e i risultati sono stati ottenuti e praticamente in termini di rapporti di accelerazione spettrale nei tre punti a b e c che vedete sotto nella sezione raffigurati e ovviamente sempre per i due scenari di input sia in approccio lineare lineare che che un valente lineare diciamo dall'analisi di questi di questi risultati e si è visto praticamente che per entrambi gli scenari e per lo scenario tettonico e perché per quello vulcanico e i risultati che fornivano una telegine davano indicazioni su un'etereogenità laterale e nella risposta sismica locale soprattutto la sezione nel punto il punto a e nel punto b e mentre per lo scenario tettonico l'effetto dietro di gina era massimo nella porzione e c e alla luce di questo si è ridono quindi scartare il modello semplificato e usare il modello iniziale quello più dettagliato sono state quindi effettuate analisi di risposta semilocale sia 1d che 2d sempre nei medesimi punti abc prima indicati e qui anche raffigurati e in particolare in questa figura viene rappresentato il rapporto spettrale medio tra il 2d e la 1d e sia per scenari tettonici che per sempre per scenari vulcanici e sia per l'analisi sia lineare che lineare equivalenti e da questa figura si può osservare come i rapporti di accelerazione spettrali sono massimi sempre verso il centro del cadere per per entrambi per entrambi gli scenari e questa slide invece che vi mostro uno dei diciamo tre virgolette dei risultati e particolare l'interpolazione dell'accelerazione spettrali e lungo la sezione di superficie che sono state ottenute dalle analisi numeriche per entrambi gli scenari vulcaniche tettonico questa rappresentazione in pratica fornisce un'immagine della variazione del moto del suolo e all'interno del mar stesso si vede chiaramente come l'amplificazione del moto nella parte più interna del mare sia molto maggiore rispetto alle unità più classiche invece formano all'esterno in particolare vengono evidenziate la massima accelerazione spettrale che raggiunge circa 6 g in corrispondenza dello spessore massimo del video tipo 1 che è quello che condiziona maggiormente la risposta di estica locale essendo avendo delle caratteristiche e già meccanico molto scadenti in termini di risposta di sito e qui mostriamo possiamo dire che diciamo a valle di questo studio che il modo del suolo è atteso attraverso una struttura marra è strettamente correlato sia la distribuzione spaziale che allo spessore dei depositi depositi post erottivi che determinano un forte contrasto con i sottostanti depositi e depositi di riempimento di diatrima che invece presentano delle caratteristiche molto più consistenti in particolare e riguardo a sinistra la rigura a sinistra viene proposto uno schema semplificato di mar diatrima dove la distribuzione spaziale dei depositi viene correlata con l'amplificazione sismica che è massima parte centrale del crateria e a destra invece proponiamo è una correlazione schematica tra l'etrogenità e straticatica verticale e l'amplificazione prevista del modo al suolo che potrebbe essere considerata per un sistema mar diatrima e simile al nostro caso di stracciacatta e cioè per quegli ambienti vulcanici dove eventi caotici e violenti possono determinare la messa in posto i corpi depositi ed erogeni sia nella direzione verticale che laterale in conclusione possiamo vi presento alcuni punti che secondo noi sono bene sottolineare in primo è il caso di studio di stracciacatta e fornisce quindi una stretta correlazione tra strategia fisica e la distribuzione della risposta sismica locale in un ambiente vulcanico esplosivo e risultati che indiano ci indicano che le alternanze di materiali poco consistenti e rigidi presenti soprattutto nella parte centrale di un mar influenzano fortemente le amplificazioni del sito e lo studio ci mostra che la tomografia elettrica di resistibilità elettrica è una prospezione geofisica molto utile per evidenziare le principali caratteristiche sia morfologiche che per la ricostruzione della distribuzione dei litotipi all'interno del mar stesso mentre gli array sismici 2d e ci permettono di attribuire dei valori medi alle velocità delle onde s per onde s di taglio e misure di numero ambientale a stazione singola che danno una buona risoluzione per discriminare principalmente il contrasto tra la rigidità dei depositi depositi lacustri ed epiglastici con quelli più profondi che riempiono il diatrema e pertanto possiamo dire che lo studio di straccia gappa dimostra che anche se il modello 1d può essere rappresentativo degli effetti attesi e un approccio 1d potrebbe non essere sufficiente per spiegare i possibili effetti in questi contesti vulcanici complessi che si potrebbero andare a sottovalutare significativamente alcune delle amplificazioni io ho concluso e grazie per l'attenzione grazie 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 grazie